Eccoci qua da Snoopy Pizza a Montrondo Scalo. Questa è la macchina da Angelino e il pizzettaro. Quando la vedete in giro è lui che consegna le pizze. Eccola qui. E' il pandino, l'Angelino e il pizzettaro. Consegna a domicilio gratuito eh, regà. Eh, guarda che fiamme. Andiamo a trovare l'Angelino. Questa è la pizzeria che sta a Montrondo Scalo, Angolo via Solaria. Se volete le caibaffi con la pizza d'Angelino basta venire qua, pure la pizza quando due le fa. Eccolo qua, Angelino. Che ci dici, Angelino? Ma è tipo sempre dell'Inter? Sì. Mannaggia, ma è la rossa cortellata, Angelino. Ma porca miseria. Ci vengo più, guarda. Vuoi dire, ci vengo lo stesso a prendere la pizza, però sarebbe a rendere più, guarda. guarda qua la pizza, che bancale. Che spettacolo. E' un po' di foto. Comunque, stiamo sempre con la nuova pizza eh. Montrondo Scalo, Angolo via Solaria. Ah, questo è il ragazzo che si è mangiato quattro euro di pizza e sa cos'è sta. Una pizza è tante. Ancora dorme. Scusa, ma com'è che dormi che hai fatto alle ore piccole? Sta come sta? No, la cascata no. Senti, quando usciamo con la moto, Angelino? Scusa, quando devi fare a te. Scusa, con questo tempo. Sì, ma tu con la sgassata, capirai? Ti saluto. E chi ti arriva? Mannaggia, il cuore di Angelino. Vabbè. Io un po'. Mi piace salutare Angeli che andiamo via qua. Eccolo qua. Ciao Angeli, state bene. Ciao.